Transpotech, prima uscita pubblica in Italia per il crafter. Che cosa abbiamo da dire sul crafter nuovo qui alle nostre spalle? È un apportamento importantissimo, svegliamo al grande pubblico il nostro nuovo gioiello di famiglia, costruito al 100% con DNA Volkswagen, che ha già avuto riconoscimento del Van of the Year per il 2017. Un riconoscimento importante, però una domanda a questo punto è d'obbligo, ma tra i moltissimi veicoli commerciali che ci sono sul mercato italiano, perché uno dovrebbe comprare un crafter? Perché offre una soluzione ad hoc per qualsiasi missione. Di fatto è stato costruito intorno alle esigenze del cliente, o per meglio dire di tutti i clienti che hanno bisogno di un veicolo dalle 3 alle 5,5 tonnellate con la versione furgone, con la versione doppia cabina autotellaio, cabina singola e con tre tipi di trazione, anteriore, posteriore anche gemellata e 4 motion integrale. Quindi modularità completa per il crafter e continuiamo il nostro giro qui al Transpotec.